Ciao ragazze, eccomi tornata con un nuovo video tutorial, realizzato con l'ultima arrivata, una palette davvero fantastica che ora vedrete in azione. Inizio stendendo il bioprimer di Neve Cosmetics su tutto quanto il viso e lo stendo semplicemente come fosse una crema con le mani. In tutto quanto il video vedrete praticamente solamente prodotti Neve. Stendo la BB Cream della Sobio in texture leggera e come sempre mi aiuto con una spugnettina in lacce per un effetto molto più naturale. Nella zona delle occhiaie metto il correttore della Maybelline Super Stay 24 ore e lo sfumo bene. Sulle varie imperfezioni e brufoletti invece vado a mettere il correttore della Catrice, il Camouflage, che avendo una consistenza un pochino più secca rimane un po' più fermo sui brufolini. Infine prendo il mio amato Instant Antie Age e lo applico nella zona delle occhiaie e tutte quante le zone che voglio andare ad illuminare, quindi anche nel naso, nell'arco di cupido e nel mento. e lo sfumo bene con la spugnetta. Per avere un trucco più duraturo e stando su tutta quanta la palpebra mobile, il primer della Essence è la Love Stage e lo sfumo bene. Ed ora ecco che arriva lei, la nuova palette di Neve Cosmetics che ho acquistato, la Makeup Delight. Inizio applicando Jetlag all'inizio della palpebra e all'inizio dell'occhio con un pennellino piatto. Adesso andiamo a prendere Casa Delight, che dalla videocamera risulta un po' falsato perché sembra un viola blu, ma in realtà è un viola veramente pieno, un vero e proprio viola, e lo stando su tutto quanto l'occhio, portandolo anche un po' verso l'alto. Nel frattempo ho anche applicato lo scotch a fine dell'occhio per avere una linea più definita e netta. Aggiungo poco prodotto alla volta perché comunque è molto molto pigmentato. Adesso prendo Root 66, che diciamo è nato più come illuminante, infatti lo prendo con un pennello ampio e lo applico nell'arcata sopraccigliare, andando così anche a sfumare il viola sottostante. Con un pennellino pulito lo applico anche nel condotto lacrimale, andando così ad illuminare. Prendo la matita nera dell'Everroche, la stilo waterproof, e vado a tracciare una sottile linea attaccata alle ciglia. Non volevo mettere un eyeliner per non rendere il trucco diciamo più pesante, e quindi ho solamente sfumato questa matita nera con poi Black Sheep di Neve Cosmetics. In questo modo è venuto un risultato un pochino più soft. Applico la matita nera che ho applicato anche prima all'interno dell'occhio, quindi nella rima interna. e con il pennello con cui ho applicato il viola, vado anche a passarlo sotto la rima inferiore dell'occhio. Pulisco tutto quanto con una spugnetta e un po' di instant anti-age, in caso fossero cadute un po' di polveri. E infine andiamo ad applicare il mascara Pupa Vamp. Questo è il risultato finale degli occhi. Passiamo ora al viso, come vedete ho fatto anche l'altro occhio. Vado ad applicare un bronzer opaco, e utilizzo questo di Neve Cosmetics California, e lo applico con un pennello leggermente angolato. Riprendo Jet Lag dalla palette di Make Up The Light, perché è un colore davvero perfetto per essere usato anche come blush, e quindi lo vado ad applicare. In questo modo vado anche a riprendere il colore degli occhi. Ed è davvero bellissimo. Vado ad applicare perfettina sul contorno labbra, e una volta applicata la vado a sfumare con il dito per non far vedere lo stacco di colore. Infine applico Cappuccino, il pastello labbra, e appunto sulle labbra. Non volevo usare troppo con i rossetti, visto che il trucco occhi è già abbastanza intenso. Invece questo è un bellissimo nude. Questo è il risultato finale. Devo dire che a me piace tantissimo, la palette è davvero ottima, ha una buonissima scrivenza, un'ottima pigmentazione. E come vedete i colori sono davvero belli. Piano piano spero di riuscire a usarli tutti. Un bacio! Ciao! 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 Grazie a tutti.